Mister Damini, è arrivato il momento anche di Enrico Ruggeri, domenica potrebbe esserci il suo esordio, è un sogno che si realizza per lui? Sì, è un sogno che si realizza per lui, è un obiettivo della società, già da mesi quando l'abbiamo tesserato, e quindi domenica sarà dei nostri e giocherà i suoi 5-10 minuti anche lui nel campionato di Serie D. La prende seriamente questa avventura lui? Lui la prende molto seriamente, era un obiettivo prefissato suo, una scommessa, e diciamo che grazie al Sona l'ha quasi vinta, vediamo se gioca, quindi dopo la vincerà. Lei è subentrato in corsa, ha campionato iniziato, ha preso la squadra in un momento anche difficile, come è riuscito ad inserirsi in un gruppo e trascinarlo poi alla salvezza? Guarda, con molta umiltà e molta calma, il lavoro già fatto dall'altro ministero era buono, quindi ho cercato di toccare il meno possibile e di entrare in punta di piedi. Il primo mese, il mese e mezzo è stato molto difficile, poi qualche risultato, un po' di fortuna, il lavoro è venuto fuori e abbiamo fatto un gran girono di ritorno. Infine, la gestione di Mike Ohn, grande visibilità mediatica, è arrivato, chiaramente c'è voluto un po' di tempo perché si ambientasse e poi alla lunga è venuto fuori. Come è stato appunto approcciare un giocatore della sua caratura? Guarda, Mike, lo ho detto più volte, è stato molto facile perché il suo comportamento da professionista vero mi ha stragevolato. Stragi volato, quello che ho dovuto fare è trattarlo uguale a tutti gli altri, quello è stato per me il punto di forza e quello che ha apprezzato anche lui perché all'interno dello spogliatoio lui è stato trattato uguale agli altri e questo secondo me è stata la molla anche per lui piano piano per venire fuori. Si pensa già alla prossima stagione? E questa è una domanda da fare alla società per quanto riguarda Mike e anche per me, adesso ci troveremo a voce ferme e faremo due parole e vedremo se riusciamo a continuare assieme.